Il punto tessuto si lavora su un numero di maglie dispari e si ripete ogni due ferri. Si presenta molto diverso, ma ugualmente gradevole nell'aspetto, sia sul diritto, sia sul rovescio del lavoro. Nel primo ferro, lavora a rovescio tutte le maglie. Nel secondo ferro, lavora a diritto la prima maglia, quindi per tutto il ferro, ripeti questa sequenza. Filo davanti, passa una maglia senza lavorarla, prendendola come per lavorarla a rovescio. Riporta il filo dietro e lavora a diritto la maglia seguente. Riporta il filo dietro.